Il giorno dopo il botta risposta con Grillo su Twitter, il sindaco 5 Stelle di Parma Pizzarotti diserta una conferenza stampa in comune e non commenta quella che già viene definita l'ennesima scomunica del leader, oggetto del contendere l'incontro previsto per il 15 marzo di Pizzarotti con sindaci e candidati 5 Stelle alle prossime amministrative. Non è stato concordato né con lo staff né con me, tuona Grillo in un tweet. Incontro già organizzato l'anno scorso, replica il sindaco, se fare rete non va bene, fate voi. L'attacco sferrato da Grillo non è passato inosservato dopo le critiche di Pizzarotti alle espulsioni dei senatori dissidenti. Anche in passato Grillo e Pizzarotti erano stati in disaccordo su temi come la legge elettorale e lo Iussoli, ma è la prima volta che si verifica uno scontro diretto tra il leader e l'uomo simbolo della prima grande vittoria elettorale del Movimento. Mentre si discute di dinamiche che nulla hanno a che vedere con l'attività parlamentare, come la presunta scomunica di Pizzarotti dovuta ad un equivoco sulla certificazione delle liste, qui in aula si discute una legge elettorale fatta apposta per tagliare le gambe al Movimento 5 Stelle ed evitare che vinca le prossime elezioni.